Il capo c'è la storia della casa, quando sacerdote fosse il capo c'è la storia della casa. Signore, queste vesti sacerdotali sono segno della tue appartenenza alla Chiesa. Riconoscenti a te per averci donato i tuoi ministri come vita, e riconoscenti ai sacerdoti per aver messo le loro vite a servizio del corpo. Pane nelle seguiche, Signore, tu hai dato a dormire il dono di tuoi sagrari, il pane e il mio signore, che a questi 25 anni è costanzato il bel giorno che ha dato stiamo. Noi ti presentiamo queste seguiche di grano, un'altra stanza di un chino che è un grande ruolo, il pane e il mio signore, il pane e il mio signore, il pane e il mio signore. Le giotele vuole un'articola. Questo è Giotola, le ho gli particolari di pane e programma te, che sei il nostro pane e creatore. La sua amica sta rossa e nel corpo di Gesù, aumenta noi il desiderio di inviuntare e di piacere a te e a te. E oh come si sa. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti